Bene e benvenuti, vediamo un po' come fare un'interazione con Google Cardboard Iniziamo da una scena in cui abbiamo già una navigazione pronta Questa è una scena in cui facendo play si entra in questo boschetto e poi premendo Alt possiamo navigare tra l'altro adesso qui possiamo anche volare e vedete che non volo via semplicemente perché ho fatto quel trucchetto che abbiamo visto di mettere semplicemente nel mio player e quindi qui abbiamo lo script di movimento e poi abbiamo Rigid Body abbiamo tolto la gravità ma abbiamo anche messo il drag a 20 e una massa un pochino più alta in questo modo ci muoviamo, voliamo in maniera tranquilla senza tanti problemi Allora, vogliamo fare un'interazione Per fare un'interazione mettiamo innanzitutto qua vicino a dove siamo un oggettino che sarà un 3D object, un cubetto Questo cubetto ce lo portiamo davanti a noi giusto per questo esercizio e lo magari lo facciamo un pochino più questo lo facciamo un pochino più piccolo Ok, e poi ce lo portiamo per terra Quindi il cubetto lo spostiamo Ah, è qua Lo spostiamo un pochino per terra e diciamo che noi vogliamo fare in modo tale di puntare questo cubo Questa è una cosa importantissima una base dell'interazione con Cardboard Per poterlo fare dobbiamo inserire sotto la main camera un, quello che si chiama il puntatore il reticle e il reticle lo cerchiamo qua reticle reticle abbiamo G dunque dovrebbe essere GVR reticle pointer questo lo mettiamo sotto la main camera e qui eventualmente possiamo cambiargli il colore normalmente è bianco ma noi possiamo spostarlo qua sulla parte destra e fargli assumere un colore rosso a questo punto se facessimo il play di questa scena vedete che diversamente da prima abbiamo questo puntino rosso e vorremmo che quando punta al nostro tesoro riesca praticamente a interagire col tesoro allora quindi questo cubo chiamiamolo tesoro tesoro ok quindi facciamo la caccia al tesoro allora ci vanno ancora un paio di componenti quindi ci va un event system che magari si chiamerà GVR event system e questo qui in pratica è uno script che è un oggetto uno script molto complesso che gestisce tutte le interazioni che possiamo fare oltre a quello dobbiamo mettere un raycaster dentro la camera quindi andiamo nella camera e gli aggiungiamo un componente e qui gli mettiamo raycast e cerchiamo un physic raycaster questo ora una volta fatto il raycaster quello che succede è che dobbiamo ancora dire entro qui intervallo di distanza vogliamo che il raycaster funziona quindi qui gli mettiamo che noi possiamo puntare l'oggetto solo se siamo molto vicini a un metro ok allora a questo punto per vedere se interagiamo con l'oggetto dobbiamo ancora aggiungere sull'oggetto con cui vogliamo interagire quindi il tesoro gli aggiungiamo quello che è un event trigger quindi event trigger che sarà un trigger questo che è uno script e questo script reagirà ad alcune cose però adesso facciamo la prova play vediamo che abbiamo il alt ecco se ci muoviamo con il cursore vedete che quando punta l'oggetto rimane sempre pallino piccolo ma se cominciamo a avvicinarsi a un certo punto vedete che quando interagisce quando possiamo interagire il pallino diventa un tondo un cerchio allora quando è un cerchio vuol dire che siamo nell'intervallo in cui possiamo interagire con questo cubo allora adesso facciamo un piccolissimo esempio in cui il cubo quando viene quando gli clicchiamo il mouse si ingrandisce e quando quando lasciamo il click non si ingrandisce più ok quindi si rimpicciolisce quindi dobbiamo andare sul tesoro e gli facciamo un nuovo script quindi facciamo un add component gli facciamo un nuovo script e questo script lo chiamiamo tesoro azioni azioni tesoro perché azioni tesoro perché adesso dentro dentro questo script vogliamo metterci il nostro eccolo qua script azioni tesoro doppio clic e qui vogliamo metterci una funzione che fa ingrandire il tesoro quindi facciamo un void grow che fa ingrandire e diciamo che qui abbiamo transform punto scale uguale e mettiamo new vector quindi creiamo un vettore 3 che diventa 1 1 1 mentre invece faremo un'altra funzioncina se facciamo questo dobbiamo farla public perché se no non la vediamo da fuori quindi facciamo ctrl c ctrl v e facciamo un shrink shrink in cui gli mettiamo la scala a come era all'inizio come all'inizio in realtà lo possiamo vedere da qua tesoro andiamo a vedere la scala scala 0.4 magari mettiamo 0.5 0.5 0.5 così una scala un pochino ripetibile e qui quando si shrink lo riportiamo a quel valore 0.5 0.5 e 0.5 ok magari f così capisce che sono dei numeri e punto e virgola ora a questo punto punto e virgola anche qua a questo punto andiamo eventualmente se vogliamo essere sicuri facciamo anche un compila abbiamo un errore in un altro script che cube action ma su questo in realtà va bene dovrebbe andare bene adesso verifichiamo subito se funziona se funziona cosa vuol dire che dobbiamo andare sul nostro tesoro in cui abbiamo messo il nostro event trigger e possiamo dire che cosa fare quando il pointer clicca pointer down e quando c'è il pointer down gli facciamo gli diciamo che qualche cosa che in questo caso sarà proprio il tesoro questo deve regire al fatto di aver cliccato cliccato il mouse giù e gli abbiamo messo appunto l'oggetto qua e di questo oggetto ci sono una serie di script ma c'è ok quindi il tesoro andiamo un po' controlliamo di nuovo cosa c'è ah non gli abbiamo messo lo script e dove gli avevamo aggiunto lo script del tesoro forse ce lo siamo persi ah no eccolo qua azioni tesoro quindi se facciamo un doppio clic abbiamo queste che sono public e public ah forse non lo vede proprio perché non l'ha compilato ok effettivamente non l'aveva compilato ero tornato qui e ho cancellato uno script vecchio che avevo prima e che aveva un errore e quindi ho ricompilato e ho messo soltanto azioni tesoro quindi se noi andiamo dicevo qua abbiamo messo pointer down tesoro gli abbiamo messo il tesoro qua e facciamo verifichiamo che qui tra i vari script c'è anche finalmente azioni tesoro e c'è il grow e poi possiamo mettere un altro evento che è pointer up e in questo pointer up gli mettiamo pointer up vedete che mi ricopia il tesoro e l'azione non è più un grow ma sarà un shrink quindi adesso qui cosa succederà che se noi facciamo il play di questo oggetto vedete che alt eccetera siamo lontani se ci avviciniamo a un certo punto vedete che ci diventa il mouse in quel modo e cliccando si ha il il fatto che il questo oggetto si ingrandisce ora quello che succede però è un pochino brutto e che come vedete cliccando si hanno due azioni una è quella di fare l'interazione col cubo e la seconda è quella di effettivamente di muoversi verso il cubo che però noi vorremmo evitare quindi diciamo che quando nel prossimo video vi farò vedere come fare in modo tale è che quando si è effettivamente abbastanza vicino al cubo si disabilita il fatto di muoversi e in questo modo si riesce a conservare il click sia per il movimento quando si è abbastanza lontani e eventualmente anche quando arriviamo invece in prossimità degli oggetti interattivi evitare di muoversi che genera come vedete fastidio quindi al prossimo video